Siamo con Andrea Mandelli, presidente della FOFI. Ecco, dottor Mandelli, manca poco per l'affermazione della farmacia di servizi, cosa manca per la definitiva attuazione del DM77? Beh, dunque, dividiamo un po' le due argomenti. Sicuramente la farmacia di servizi in questo momento sta riannodando i nodi che si sono sciolti all'inizio della pandemia, nel senso che purtroppo la fase sperimentale che doveva coincidere proprio in quei mesi, gennaio, febbraio, marzo, in cui purtroppo la pandemia è scoppiata, ovviamente deve essere rifasata. Quindi le regioni stanno riproponendo il famoso cronoprogramma che era già stato approvato e che dovrà dare il via a una stagione nuova, una stagione nella quale però il farmacista esce un po' dalla fase sperimentale perché sul campo ha dimostrato che la farmacia di servizi è una risposta concreta per l'organizzazione territoriale del servizio sanitario. Quindi questo sicuramente è il tema su cui ci stiamo spendendo di più con le regioni per rimettere in moto il cronoprogramma. Poi il secondo aspetto è il DM77 che riordina l'assistenza territoriale che non ci lascia completamente soddisfatti. Però sicuramente è una buona base di partenza. Le competenze del farmacista sono ben delineate e viene ricompresa l'attività di vaccinatori che è stata un po' la chiave di volta della nostra attività in questi anni e soprattutto evidenza la necessità di far sì che l'equip dei sanitari prenda in carico il cittadino per poter fare della prossimità un momento ancora più importante per l'assistenza sanitaria. Sono attività che la federazione sta appunto monitorando con grande attenzione. è un lavoro molto importante, un lavoro che ci vedrà come al solito capaci di essere attori proattivi e quindi al fianco dei colleghi parlamentari che saranno in grado di portare le istanze che come sempre ripetiamo non sono mai lobbistiche ma sono istanze che sono a tutto vantaggio del cittadino e che vedono protagonisti ovviamente la nostra professione. Ecco, come lei accennava le competenze del farmacista soprattutto in questi due anni di pandemia si sono evolute, sono cambiate ecco, quindi è importante anche un relativo adeguamento della formazione considerando i cambiamenti del lavoro per il farmacista ecco, e quanto è accaduto poi con la recente adozione del decreto ministeriale che riforma il corso di laurea in farmacia? Anche questo direi, è brutto dirlo però è un grande successo della federazione perché abbiamo voluto lavorare col ministero dell'università per aggiornare il piano di studi della farmacia l'occasione è stata anche quella delle lauree abilitanti cioè noi abbiamo detto al ministero va bene la laurea abilitante ma per poter dare al farmacista che va sul territorio una competenza specifica bisogna riformare anche il percorso di laurea il ministro Messa è estremamente sensibile che ringrazio, ha accolto la nostra istanza quindi abbiamo reso abilitante la nostra laurea ma abbiamo cominciato un percorso per far sì che il farmacista laureato in farmacia sia un protagonista attivo della sanità di prossimità perché il mondo è cambiato quindi avevamo bisogno anche noi di adeguare le conoscenze troppa chimica non era così importante come fu definita allora allora abbiamo bisogno di qualcosa di più e noi stessi notiamo che i farmacisti neolaureati i colleghi neolaureati arrivano un po' disarmati al banco o in ospedale perché la riforma ovviamente è una preparazione che riguarda tutti gli sbocchi professionali del farmacista sia quelli ospedalieri, quelli sul territorio e quelli anche dell'industria quindi rifare questo percorso di laurea per dare centralità a quelle nozioni fondamentali che rendono il farmacista sempre più protagonista dell'ambito professionale in cui sceglieranno di andare a operare anche questo è un risultato molto importante della federazione di cui sono particolarmente orgoglioso devo dire che abbiamo fatto tante promesse ai nostri colleghi però con orgoglio e guardandoli in faccia uno a uno posso dire che le promesse che la federazione ha fatto le ha veramente realizzate tutte questo credo sia un merito di questo gruppo di ragazzi che si è assunto un compito importante dopo gli anni della legge Bersani un compito di cambiamento della professione che non è finito ma sicuramente non è stato un set di slide che il presidente federale si era voluto costruire per andare a fare convegni in Italia abbiamo fatto un progetto, l'abbiamo seguito, l'abbiamo realizzato manca ancora molto però devo dire che tanto, tanto, tanto è stato fatto grazie grazie a voi